Che altro mi suggerisce? Scusami Lulu Gomez Non l'ho capito questa signori Aspetta un attimo, sono confuso Mettimi anche centro avanti, magari mi suggerisce dei giocatori che possiamo riuscire a prendere, chi lo sa? Ziku ce lo siamo fumati prima, e va bene Facendo una ricerca rapida signori, una ricerca rapida per... cambiasso, sì Park Jisung, certo, un altro che ci sta venendo Molti hanno i nomi di giocatori dell'attuale, quindi li confondo magari con i giocatori dell'attuale e quindi dico Sì, mi sto facendo tutta quanta la lista, sì Devo capire un attino che problemi ha lui Se mi suggerisci i giocatori che possiamo prendere, oppure se... no No, no, no Mariano Gonzales, un CF Ma non mi... oddio, oddio Mariano Gonzales, Mariano Gonzales, avviate trattato per attrazione Sì, seleziona 4.000 tratta, 4.100 e stipendio... Ma non mi serve comunque Mariano Gonzales, scusatemi, ma Mariano Gonzales... sì, interessante, ma mi serve un attaccante in primis Voi siete 2CM e non mi... niente, gli attaccanti non me li suggerisce, non... Non, 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 non li piacciono gli attaccanti Me li devo cercare da solo, gli attaccanti Maledetto Lulu Gomez Maledetto Niente, attaccanti non... Non è dato averne Non è dato averne, ok E noi allora, però, ci concentriamo solo sugli attaccanti, signori Decisamente sì Attaccanti Attaccanti, ok Passiamo a una maniera così, intanto No, così non ci capisco nulla Allora, a me serve un attaccante Wal, Walner Accelerazione, velocità Quanti anni hai? 22 Sei un po' vecchiotto, zio Aspetta No, ma Zeng è un... è un cav Di 20 anni Buona tecnica, buona Masague Masague, ci vieni a giocare da noi Masague Manco ho visto se Masague Aspetta un attimo No Masague ci viene Masague ci viene Avvia le trattative, sì Avvia le negoziazioni Allora, ti off... Dai, dai, che paranoia Sì, avvia, avvia tutto quello che vuoi Ti offro 5.000 Lo spariamo grosso, signori Ti offro 5.600 di stipendio Masague Io credo in te Masague mia Ritratta sicuramente Masague mio Io credo in te Masague Dammi soddisfazioni Masague Sicuramente è più forte di... Del mio amico Allora Poi mi serve Un attaccante Velocità Accelerazione Velocità Velocità massima Accelerazione 85-81 Utacqua Porca miseria Utacqua mio Quanto prendi? Utacqua Ti voglio Utacqua Non mi interessa Buona tecnica Buona aggressività 22 anni Utacqua Utacqua Applica Io mi vado a levare Un certo Protti Cancella Cedi Sì signori Mi dispiace per Protti Ma Ci prendiamo un sacco di stipendio Chi sono altri che hanno stipendio elevato? Vidigal No Vidigal Me lo tengo Mareggini Colombo Bilotti Mio Bilotti Mio 450 Bilotti Bilotti Mio Dai Cazzarola Ruotolo Ruotolo Mio Non hai trovato una cazzarola di squadra? E ora io ti mando Ti mando A cercare Altre cose Vanigli Prendi 400 Vanigli Non hai mai visto il campo Ciao Vanigli E anche Valeri Signori Anche Vidigal Me lo terresi Cioè anche se è grande Colombo Anche tu Non hai mai visto il campo Vai a cercare funghi Da un'altra parte E io direi che Abbiamo un attino Accorciato la rosa Valeri Quanto anni Abbiamo detto che ha? 35 Valeri mio Con tutto il bene Ciao E Va bene Va bene Signori Andiamo avanti Andiamo avanti E' grave la cosa Perché Rimane per l'ultima giornata di mercato Non abbiamo manco avuto La cosa di prendere Giocatori in prestito Questa cosa è gravissima Andiamo avanti Speriamo Nell'arrivo di questi due giocatori Abbiamo alzato un attino Alla posta Come soldi Siamo fortunati Ok Utaka è arrivato Signori Utaka è arrivato Ok Abbiamo avuto un'offerta Anche per Vidigalle Ok 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 Utaka è arrivato Ok La prossima è trattativa 4 Ok Importante Importante signori Abbiamo acquistato un giocatore Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Allora Informazione sui trasferimenti Ma chi se ne frega Dei trasferimenti delle altre squadre Io devo pensare a quelli miei Allora Allora signori Aspettate un attimo Trattative La mia squadra La mia squadra Allora Se non sbaglio Vidigalle Vidigalle No No Questa è Vigiani Vidigalle Utaka Utaka è appena arrivato Ok Vidigalle E invece Cambia condizioni Cambia condizioni Contrattuali Non ho capito Anni contratto residuo 2 Offri condizioni Mi offrono 3.400 No Fermi tutti Io come faccio a dirgli La mia squadra Guadagni previsti E non mi fa fare niente Ok I dati di mercato Sarà quello che abbiamo visto prima Ok Cerca La mia squadra Ok Come faccio io ad accettare Confermo Ordine Modifica Confronto Aggiungere Cambia condizioni Contrattuali No Anni contratto Residuo No 2 Tratta Non lo so Signori Boh Forse se lo venderà Da solo In tutto questo Andremo a cercare Un Un Ricerca avanzata Non più Un attaccante Emo a centrocampista Avanzato Ritorniamo lì Signori Ritorniamo lì Questo video sta durando Un'eternità Questo video sta durando Un'eternità Bene sì Allora No Mi serve comunque Veloce Mi serve comunque Veloce Tu Bili 7.000 Ma chi ti caga Grand Sì Va bene Ma scusami Non c'è la posizione Anni di contratto Stipendi Abilità speciale Abilità 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 No Non c'è la possibilità Di dirgli Che lui Vuole venire Non c'è Orgas Velocità massima Buona tecnica 20 anni Va bene Lui mi suggerisce Orgas E noi andiamo a prendere Orgas Non so neanche Quanto cazzarola Prendeva 5.600 Distruggiamo tutto Signori Applica Sì Sto andando a comprare Un giocatore Che non so Minimamente Chi cazzarola Sia Però va bene Però va bene Signori Andiamoci a fare L'ultima giornata Di mercato Non so Minimamente Che cazzarola Succede Cazzarola È arrivato Pure quello Va bene Signori La finiamo Col botto Vidigal Se n'è andato E ci ha portato 3.000 Praticamente Di stipendio Di fondi Ed è arrivato O un engas È arrivato Gas gas Signori Va bene Ottimo 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 così Ottimo così Ottimo Veramente così Ottimo Veramente così Lui sta salvando A prescindere Va bene Tanta roba Tanta roba Porca miseria Tanta roba Partenze giocatori Ma chi se ne frega Delle partenze giocatori Allora signori Andiamo un attimino A rifare tutta quanta La formazione No Formazione Perché ora abbiamo Cambia giocatori Passoni Che se ne va via E lascia il posto A Gas gas Signori Il nostro nuovo numero 10 E Utaka Convocato in nazionale No Sei un bastardo Sei un bastardo Abbiamo preso uno Che è convocato in nazionale Utaka mio Non mi puoi fare questo Mi servi subito La prima partita Già te ne vai in nazionale Va bene Signori Detto questo Vi ringrazio Vi ringrazio per i like Per i commenti Per il supporto Penso che questo video Sarà diviso in due pezzi Perché Penso di sì Penso decisamente di sì Però ci siamo riusciti Qualcosa L'abbiamo 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 capita Signori L'abbiamo fatto nel mercato Non ne sono arrivati i giocatori Che speravamo Però 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 Ci stiamo lavorando Detto Signori Vi ringrazio per il video Vi ringrazio per il like Per i commenti Per il supporto Ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo appuntamento Bella raga Ciao